Consatare di persona le problematiche legate al pagamento dei tributi dopo le ultime proteste legate all'Atari, confortare dal vivo i contribuenti e i dipendenti degli uffici in questi giorni così problematici legati ai pagamenti e alle tasse. Il sindaco di Barletta, Pasquale Cascella, accompagnato dagli assessori Anna Franca Bandiera e Marcello Lanotte, ha fatto visita questa mattina all'ufficio tributi di Via Bambitelli. Per riaffrontare di petto la situazione, ne è scaturito un confronto sereno con i contribuenti in coda agli uffici, nell'attesa di essere ricevuti dai dipendenti e con gli stessi dipendenti impegnati a risolvere le problematiche legate all'Atari. È voluto intanto verificare l'efficienza del servizio che il comune sta offrendo e in qualche modo, se essere anche vicino ai dipendenti comunali che stanno in questo momento sul fronte, a doversi misurare anche con una condizione obiettivamente di malessere, persino di tensione in alcuni casi. Ogni volta che si vada a chiedere ai cittadini di far fronte a un tributo, a una tassa, chiamiamo le cose come si vogliono, non è facile. Andare poi a dimostrare che quella tassa corrisponda al dovuto, anche questo non è semplice. Però noi siamo costretti, noi per primi, noi per primi amministratori, dipendenti comunali poi, ad applicare delle norme. I comuni sono diventati gli ultimi terminali con i cittadini, molte volte in trincea in un momento così difficile di crisi economica. Non solo l'Atari ma anche la Tasi e l'Imu sono tasse e tributi da pagare alle pubbliche amministrazioni, che molte volte non sono neanche loro a gestirli. Di qui la protesta e gli scudi alzati dei comuni attraverso l'Anci ed una nuova proposta di tassazione. Abbiamo bisogno in un momento come questo soprattutto di comprensione reciproca. Comprensione reciproca per affrontare i problemi che oggi sono sul tappeto e poi per rivendicare quella, se mi posso permettere questa espressione, rivendicare quell'autonomia che ai comuni si deve per gestire in proprio direttamente. Perché noi ci stiamo facendo carico oggi di responsabilità che non sono nostre, che non sono degli amministratori comunali. Noi vogliamo farci carico di queste responsabilità, ma noi vogliamo farci carico di responsabilità che perlomeno abbiamo condiviso. Grazie.